Novità da Letizia Non lo sapevo, però ti posso dare un consiglio proprio fraterno? Vaglio, tu in queste condizioni, ma tu al presidente, tu mi pari un pesce piccato di cabotto. Che? Un baccalà! Ah, grazie. Prego. Ma una cosa fondamentale che ti volevo chiedere. Ciambellù, ma quando è l'ultima volta che hai fatto l'amore? Nel 1984. Vaglio, tu sei inguagato? Dici. 29 lunghissimi anni. Di ragnatele. Di ragnatele. Come hai mai fatto, materno? Questo si chiama svegliamento. Adesso tagliamo il puff, il look giovanile, e sei perfetto. Perché? Piangi. Piangi, piangi. Ma è morto solo il cardellino. Vaglio, a Napoli pure un cardello è una famiglia. Piangi. Un cardello. È un parente, è un parente. Questo non ce lo dovevo fare. Questo non ce lo dovevo fare. Dove è che dormo? È un pezzo di male. Bravo. Come il fazzoletto? Non ho capito. Hai il fazzoletto. Ti ho capito. Ti ho il fazzoletto. Bravo. Straziato. È morto il cardello. Tienati. Ragazzi. Ragazzi, salvatemi da quest'incubo, vi prego. Adesso loro ti insegneranno come si salutano. Vai. Ci seguoci. Dai, dai, dai. Allora, ripetiamo? Sì. Frate, fratelli, fratellou, frataccio, fratami. Compagnimi, compagnolo meglio, compagna mia. Allora, vai VocRC. Frate, fratelli, fratellou, frataccio, fratami. Compagnimi, compagnolo meglio, compagnimi. Compagnolo meglio, compagnolo. Compagnolo, frate, concilito, compagnoli via. Va bene? Eh, non mi sembra male. Offese le avete studiate? Sì, sì, sì. Offesa numero 4. Tu sei un scema e tanzi trattami! Maunilla! Troppo? No, no, buono. Casomai se hai bisogno di un chiarimento, se ti serve un atteggiamento particolare che non capisci bene una cosa o non la sai, ti può servire questo, guarda. Magari io, frate, oh, magari io, magari io, frate, coi su, coi su, frate, coi su, coi su, frate, coi su, coi su, frate, oh, magari io. Può tornarti utile. Ah, bene, bene. Frasi d'amore? Qual è la frase che dici ad una donna, se ti piace? Tu sei la donna che ha più generato turbamento fin dal primo giorno. Oh, ma che... Oh, ma... Ciambellù. Io questa so. Tu devi dire tipo... Amore mio. Ah, così d'amore? D'amore, flambe, come ti pare a te, basta che ho dici. Amore mio. Amore mio. Amore mio. Tu apposti, ciambellù? Insomma. Amore mio. Con tre M lo devi dire. Amore mio! Bravo, ciambellù, bravo, ciambellù. Promosso? Beh, considerando che l'ultima volta che ha fatto l'amore, Tutankhamen ha fatto 18 anni. Ecco. È stato promosso. Grazie. 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 Grazie a tutti